15 centimetri di troppo che non consentono ai nuovi autobus TM di passare sotto il sottopasso di via Veneto. I bus in questione sono 6 dei 18 recentemente acquistati dall'azienda che ha in gestione il servizio di trasporto pubblico locale. Questi autobus provenienti dalla Valdichiana e destinati al capoluogo dunque non riescono a percorrere il tragitto da sempre fatto ed è proprio per questo motivo che i tecnici del comune e della provincia dell'azienda si sono incontrati lunedì mattina per decidere il da farsi. Dobbiamo chiarire che gli autobus di nuova concezione cioè gli Euro 6, quelli che non inquinano o che inquinano di meno per realtà hanno tutti questa altezza. La possibilità sono di vario tipo, il primo che si usino autobus vecchi e non mi sembrerebbe una cosa ottima per gli utenti, il secondo che si aumenta la luce del sottopasso di via Veneto. È possibile farlo attraverso una levigazione dell'asfalto, questo se comune e provincia vorranno farlo, non è una competenza di TM. La terza soluzione è che secondo me è quella migliore, che gli autobus exurbani provenienti dalla Valdichiana all'altezza di Viarno prendano Viarno, raggiungano la rotonda in fondo a Viarno e poi si riconnettano in via 25 Aprile. Due di queste tre ipotesi hanno ovviamente dei costi aggiuntivi, di che costi si parla? Per quanto riguarda l'asfalto non lo so perché sinceramente non ci occupiamo di asfalti, per quanto riguarda il prolungamento del tragitto nell'eventuale percorso che cambia, un costo nel budget annuale credo irrisorio, che credo si possa già essere 30 mila euro, ma che è una cosa che potremmo contrattare e discutere con la provincia. Di tutt'altro opinione l'amministrazione comunale. A questo punto verrà fatto un progetto e immagino che ETM finanzierà l'intervento per abbassare il sottopasso qualora sia fattibile, perché non è detto che sia fattibile, perché ci sono tutta una serie di problemi che per ora abbiamo analizzato in maniera superficiale, ma nei prossimi giorni approfondiremo che ci diranno se sarà possibile fare questo tipo di intervento e che costi avrà. Quello che ci tengo a ribadire è che non ci saranno costi dell'amministrazione perché non è un problema causato dall'amministrazione, quindi non mi sento di sobbarcare i cittadini di un problema ulteriore.